Si terrà dal 25 al 27 agosto nella cornice del Parco dell'Irno il Limen Salerno Festival 2023, l'evento dedicato ai giovani e alla cultura che giunge quest'anno alla sua quarta edizione. Tre giorni di musica live con due palchi dedicati ad artisti nazionali ed emergenti, mostre, workshop, varie performance artistiche, laboratori di moda e design, momenti di condivisione tra letteratura, cinema, teatro e tante altre attività, tutte da scoprire. Dopo aver annunciato i BNKR44, il festival avrà come ospite un artista a rivelazione che vede ogni giorno aumentare il suo pubblico. Il 26 agosto, con la sua unica data in campania, Lucio Corsi sarà sul palco dell'Imen Safe 2023, un appuntamento da non perdere se si vuole cogliere l'occasione di ascoltare dal vivo una delle più interessanti personalità musicali del momento. I suoi live sono energia pura, la musica è la protagonista indiscussa e con le note delle sue canzoni e la sua voce arriva dritto al cuore di chi lo ascolta. Sono già disponibili sul circuito Go2 i biglietti della serata del 26 e 27 agosto. Sarà possibile a breve effettuare l'acquisto anche attraverso 18 app Bonus Cultura. Per scoprire maggiori dettagli sulla nuova edizione del festival e sulle tante attività organizzate dall'associazione si possono consultare i profili Instagram Limen Salerno e Facebook Limen.